Allora, passiamo insieme, con le nostre voci, per dire alla nostra voca, e insomma una parola di spedizione, di parole e di maltenzione. In questo momento, non mi chiede, ammetti, di un solo cuore, noi parleremo, ma noi parleremo ogni cosa. Solo la sento di scelto, con me. Posso ogni cosa. Posso ogni cosa. Chi è qualcosa che si GA years' E il perico, sì di te, ammetti, di un volley, di un solo cuore, e insomma un maggio, sì e di un solo cuore, se a chi orgo. So ho il merito! E il perico, sì è sicuramente COSTI, e c'è sicuramente è deari, se a chi orgo GRA, se a chi orgo GRA, qui orgogli fammi, Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.